Andremo a scoprire insieme i prodotti dell'azienda Silk Silky Si tratta di un'azienda che vende prodotti di biancheria da notte elastici per i capelli e gli scrunchies Mascherine sempre per dormire e anche lenzuola Ti lascio tutti i link e tutti i riferimenti dell'azienda Giunelbox insieme anche al mio personale codice sconto Spano10 Spano10 Te lo lascio giù per sicurezza I prodotti sono, come avrai intuito dal nome del marchio, in seta Sapete che i prodotti in seta tendono a costare più del solito Diciamo che questa azienda ci tiene a dare dei prodotti che comunque, nonostante siano in seta Possono essere il più possibile abbordabili alla portata di tutti Anche se comunque il costo c'è Ma dovrebbero essere di buona 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 qualità Ne ho già sentito parlare bene da altre youtuber, da altre creatrici di video Dico così perché sto aprendo adesso adesso con te Ho giusto tagliato con il coltello questo adesivo ma non ho ancora visto i prodotti Ho deciso di fare questa volta una sorta di unboxing in diretta Dunque, aprendo, è presente una cartolina che c'è scritto Ho giusto garanzia Focus on silky life Sleep with us, tell your friends Silk Silky has created for you a prestigious silk sleepwear Poi questo cartellino Poi questo cartellino E questa carta Dietro la quale si celano i nostri prodotti Era caduto proprio il primo prodotto Che è lo scrunchies Allora, io ho scelto tutto blu notte Perché è un colore che mi piace tantissimo Ma volendo sul sito ci sono tante altre colorazioni Questo è l'elastico in seta E' molto molto morbido Dicono che Indossare della seta sia elastici ma anche proprio la federa del cuscino Oltre a prevenire le rughe E oltre ad essere dei materiali analergici Per quanto riguarda i capelli Usare elastici e lenzuola in seta Dovrebbe lo stesso Preservarne la salute E proteggerli Si dovrebbero spezzare di meno Quindi sono proprio proprio curiosa Di provare questo elastico Perché io quando dormo Devo legare i capelli E tenerli in alto Altrimenti Essendo molto lunghi Averceli tutti in faccia Mi darebbe particolarmente fastidio Sono curiosa di provare Con un elastico in seta Poi Altra cosa super carina Oh è morbidissimo Oh è proprio morbido morbido Super liscia Questa mascherina Da notte Proviamo ad indossarlo Allora adesso Vabbè Considera che sto così Non so come ho conciato i capelli Però è molto molto carina E si sente proprio la morbidezza La delicatezza del tessuto Sia sugli occhi Ma anche proprio La fasciatura Dietro al capo Eccomi qua Ecco Ora i capelli sparati Non vedo niente Non vedo niente Quindi se avrò i capelli sparati Per il resto del video E per questo motivo Stupenda mi piace Davvero carino Poi Pesco 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 Ah questa è la federa Perché mi hanno chiesto di Non tutto il set Per il matrimoniale O comunque per il letto singolo Però mi hanno detto Di scegliere una federa Ovviamente si possono stirare Ah è molto bello il fatto che Questa federa Si chiude con la cerniera Si è molto comodo Mi piace questo aspetto Che morbido Che morbido Bellissimo Poi come ultima cosa Abbiamo il pigiama Allora io ho preso la taglia S Qua c'è anche l'etichetta C'è anche il cartellino Poi te lo farò vedere Indossato Te lo farò vedere anche indossato Così vediamo un po' Come mi sta questo pigiama Questo è molto molto leggero Quindi lo utilizzerò più avanti Primavera inoltrata Credo Perché sono una persona Molto freddolosa Qui ha il taschino E Tutti i bottoncini Per chiudere E poi ci sono i dettagli bianchi L'ho scelto anche a maniche lunghe Volendo c'è anche a maniche corte Ci sono tanti altri modelli Ora che mi ricordo Ci sono anche proprio le vesti Tante cosine super 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 carine Io volevo un pigiama Che fosse il più classico possibile Come modello E poi Abbiamo i pantaloni elasticizzati Sì E terminano così Che morbidezza Sicuramente indossandoli saranno super super confortevoli La seta al tatto è veramente qualcosa di super ASMR per quanto mi riguarda Quando ero piccola E ogni tanto Anche adesso Per rilassarmi Sia quando andavo nei negozi O comunque a casa con le lenzuola Mi rilassavo così Passando tra le dita Il tessuto Perché sentire questa Morbidezza Questo tessuto così liscio Mi rilassa subito E' veramente super ASMR per me E quindi ti lascio alla clip In cui ti mostro questo pigiamino indossato A splendore Eccomi qua con la clip Allora il pigiama è veramente molto morbido Confortevole indosso Bello fresco Si vedrà sicuramente Al 100% Che è da stirare Io però Ria per questioni di tempo Ma anche proprio perché non ho mai stirato Un capo in seta E ho paura di rovinarlo Di bruciarlo Adesso Ho preferito Per il momento dato che dovevo pubblicare Subito questo video Di indossarlo in questo modo E poi Nei prossimi giorni